bene buongiorno a tutti amici questa mattina per la terza volta quest'anno mi sono svegliato con una buona notizia in particolare mi riferisco alla buona notizia che i manes che hanno vinto a budapest il mtv european music awards la categoria best rock per quanto d'italia erano anche in categoria best italian art ma l'ha vinta un cantante italiano di cui non riesco a pronunciare il nome e di cui adesso non ricordo il nome è un cantante giovane con i capelli biondi non so chi sia non l'ho mai sentito mi riservo di andare a sentire l'ultima canzone che ha fatto e se c'è l'esibizione con cui si è esibito al music awards di mtv non ho idea di chi sia comunque volevo sottolineare il fatto che vincere la categoria rock è importante è più importante del best italian art secondo me perché la categoria rock è anche internazionale nel senso che i manes che come ha fatto notare un utente simpaticamente mi ha fatto notare scrivendomi jack russell se non ricordo male lo ringrazio e mi ha fatto notare che ha vinto soltanto contro gente come i fighters e altri nomi grossissimi nomi giganteschi che che sono sempre in auge ad esempio i fu fighters sono sempre in auge per dire quindi hanno vinto soltanto contro di loro e bisogna aggiungere che questo è il terzo premio che vincono a distanza di pochi mesi perché abbiamo visto sanremo abbiamo visto l'aerovision e adesso questo best rock e sfondano altri due due record il record è che è la prima band italiana che ha partecipato a questi mtv european music awards perché precedentemente c'era stato c'erano stati solo artisti singoli come ero sono mazzotti credo artisti cantatori insomma singoli e possono vantare appunto un altro record cioè che i manes che contengono una donna la victoria che è la prima donna che si esibisce in un palco in una awards di questo tipo quindi hanno anche hanno anche dentro la prima artista femminile che si è esibita dentro questa questa manifestazione quindi veramente veramente ottimo veramente ottimo posso dire che sono sulla strada giustissima hanno fatto una performance buonissima di mamma mia credo che loro fossero in playback mentre invece il cantante damiano era in assolutamente live la cosa che mi ha stupito è la scritta mamma mia in ferro con le insegna dietro di loro con le lampadine mi ha stupito tantissimo perché vuol dire che qualcuno qualcuno ha commissionato questa cosa qualcuno l'ha costruita qualcuno l'ha installata e hanno speso dei soldi per costruire una scenografia dietro di questo tipo qua quindi quello che c'è dietro i manes che è grande è molto grande perché quella scenografia lì è importante e poi si è anche alzata cioè nel senso che all'inizio era a livello terra e poi durante la performance si è alzata quindi c'era anche un meccanismo di spostamento di questa insegna che era una figata questa iconica scritta mamma mia in rosso ondulato che richiama quella la lingua dei rolling stone possiamo dire tranquillamente non c'è nessun problema quindi anche questa cosa dietro è stata fighissima e i due fuochi d'artificio che hanno sono esplosi alla fine della performance eccezionale e volevo anche ricordare che questa canzone mamma mia in particolare almeno due momenti e mezzo ultratopici il primo momento è forse possiamo rendere anche tre o quattro momenti benissimo il primo momentino è proprio all'inizio quando c'è la cassa e il basso perché il basso distorto si sente in tutta la sua bellezza di basso distorto e questo lo voglio dire a tutti i pulisti del basso voglio fargli notare quanto un riff di questo tipo che non è così scontato è un po anomalo ma è suonato appunto da una band di questo tipo che da una ragazza anche appunto con le dita benissimo e anche lo dico anche a chi non è non è avvezzo a capire non è avvezzo nei particolari non è musicista voglio fargli notare che il suono è distorto e con la cassa e questo basso e la distorsione si sente magnificamente nel suo essere basso distorto di solito siamo abituati a sentire dei bassi e di solito la gente apprezza i bassi morbidi suonati specialmente con le dita con i propastrelli e c'è con il suono pulito e profondo e molti apprezzano anche il basso sleppato che ha diciamo derivazioni funky e derivazioni jazzistiche insomma molte cose abbastanza complicate per darvi un'idea potete sentire anche jamiro quei per dire il primo nome che mi viene in mente tutti questi bassi slap sleppati tutti queste note alla velocità della luce sono molto differenti da questo riff suonato con queste note che non sono appunto né note non sono note veloci ma sono note grosse con un suono appunto profondo ma anche ripeto distorto perché il basso distorto è come dire è proprio una ribellione in sé è proprio una ribellione una è una cosa che 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 proprio c'è oltre oltre uno uno pensano la chitarra è già distorta perché devi mettere anche il basso distorto no invece il basso lo potete sentire quindi questo già inizia questa canzone già inizia con un momento super figo in cui appunto il basso lo potete godere della sua grossezza e della sua distorsione poi il secondo momento topico ultratopico avviene nella seconda inizia la seconda strofa in cui la canzone si abbassa di tono rimane di nuovo solo la cassa e solo il basso e la voce di damiano che è incredibilmente azzeccata tutta quella frase lì l'hanno imparata a memoria in un nanosecondo tutti quanti ed è più importante della prima strofa e c'è il contrasto tra il ritornello che era spinto e questa strofa che è soffusa è di sottecchi è come un gatto che cerca il topo è come un gatto che si che si apposta per per stanare la preda è come come un predatore ed è anche abbastanza aggressiva in questo in questo in questo in questo atteggiamento di preparazione della della caccia e quindi questa strofa qui è incredibilmente accattivante ed è molto anche sinuosa ed è molto sexy veramente questo momento è incredibile e lo ritroviamo dentro a una canzone di tre minuti poi la canzone riparte con il ritornello e abbiamo il terzo momento ultratopico che è a tre minuti a due minuti e qualche secondo quando la cassa rimane da sola di nuovo e c'è il basso da solo di nuovo ma questa volta il basso non fa il riff principale che abbiamo sentito nei due minuti precedenti fa una nota sola bom 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 sottolineato dalla cassa e anche questo momento guardate veramente stacca stacca l'emozione e la tensione della canzone in un modo incredibile perché lo potete lo potete sentire a pelle in cui queste cose semplici ma azzeccate queste cose incredibilmente quasi addirittura sembra banale per una da quanto semplici sono ma sono le cose che ti rivoltano la canzone ti rivoltano il momento ti rivoltano e poi il momento nel secondo momento è il terzo momento e mezzo possiamo dire quando oltre a questo basso dritto non si aggiunge la chitarra heavy di thomas raggi che è quasi metal e alla fine della canzone non abbiamo il solito riff il solito scusate assolo virtuoso metal rock alla alla scorpion oppure alla guns and roses november rain oppure alla metallica oppure che ne so agli aerosmith non hanno ancora fatto una solo di questo tipo i maneschi ci sono limitati molto intelligentemente secondo me non molto intelligentemente ma con una certa una certa razionalità a fare delle note poche note ma molto significative ad esempio thomas raggi in questo finale la solo fa delle note che sono come quelle della canzone della 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 voce e quelle del basso quindi aggiunge sonorità al pezzo senza essere una solo ma è una solo e questi questi arrangiamenti qui e il fatto che lui non si sia voluto mettere in primo piano come un virtuoso in una canzone del genere è incredibilmente intelligente e denota veramente anche il saper stare a volte a proprio posto in favore di qualcosa di più e denota anche come saper usare la chitarra nelle note alte non solo per fare una solo ma per fare una frase per fare un arrangiamento musicale una per aggiungere per coprire dei buchi sono realmente e che non sono solistici ma quasi no ed è una cosa molto anomala molto strana ed è una cosa che per un gruppo loro che sono così giovani è incredibilmente incredibilmente intelligente perché di solito questa roba quale fa uno dopo 20 minuti di carriera scusate non dopo 20 minuti di carriera le fa dopo 20 anni di carriera queste queste note particolari ad esempio mi viene immediatamente in mente come dopo 20 anni 25 anni di carriera jeff hanneman chitarista di dislayer e parliamo di un gruppo che ha reinventato un genere appunto si era spinto a fare degli arrangiamenti particolarmente diversi dal solito nelle sue canzoni due esempi su tutti l'inizio le note iniziali di jeff hanneman della chitarra pulita di jihad in cui sottolinea con tre note quello che succede e gli ultimi tre note di supremist la decima canzone dell'album christ illusion quelle tre questi due esempi qui valgono la ricerca la ricerca incredibile che jeff hanneman stava compiendo nell'ambito thrash metal che si distanziava completamente da quello che faceva carri king e da tutta e da tantissimi altri musicisti ad esempio kirk hanneman non ha mai fatto una cosa del genere neanche garry oltre degli exodus che si perdono in soli eccetera e riff eccetera jeff hanneman in questo in questo senso è uno degli artisti era uno degli artisti che si stava spingendo oltre 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 al trash oltre ai riff oltre al metal stava avendo un un exploit incredibilmente personale purtroppo è morto prematuramente queste stesse questa stessa attitude nel suonare la chitarra dentro un pezzo io la vedo esattamente in thomas raggi quando fa questa cosa qui di 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 mamma mia alla fine che non è un vero assolo è una via di mezzo e si vede anche in altre canzoni mi sembra zitti e buoni e altri pezzi dove lui sottolinea il basso senza primeggiare con gli assoni queste cose a me fanno impazzire fanno impazzire perché denotano una maturità una motorità credo credo assolutamente consapevole purtroppo io non ho parlato con lui per cui non so come la pensa su questa cosa qui non ha ancora detto niente però il fatto che l'abbia fatta denota veramente qualcosa di notevole era fatta adesso giovane subito quindi questi sono i momenti salienti di questa canzone che è stata presentata ieri sera a questo mtv e volevo anche a finire con una nota di ricordo nel senso che io gli mtv non li guardavo da tantissimi anni io li avevo persi di vista non mi erano interessati non mi interessavano più niente perché intorno agli anni 2000 avevano cominciato praticamente a essere completamente infettati sempre dalla musica r&b la musica latino americana e a me non interessava quel tipo di musica lì li ho seguiti dalla fine degli anni 90 da metà degli anni 90 fino agli inizi 2000 e ricordo serate indimenticabili quando a questi mtv music awards sono esibiti gli smashing pumpkins con bullet wings butterfly quella canzone di che è un titolo the world is a vampire ecco quello era il vero titolo di quella canzone the world is a vampire sono esibiti con quella canzone poi ricordo in serate incredibili con merlin manson che chiudeva queste 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 esibizioni con la sua presenza incredibilmente mal digeribile ma bellissimo bellissimo guardate io me lo guardo ogni ancora ogni tanto quando merlin manson si è tolto il giacchetto il pellicciotto ed è rimasto in calze giarettire bustino esattamente come damiano ieri sera quindi anche qui è fantastica questa questa congiuntura astrale di cose che ritornano rock e oro il pixel show merlin manson vestito come damiano e viceversa bellissimo e l'anno dopo merlin manson si presentò con del dope show completamente diverso cioè con i capelli rossi e con un pellicciotto latex azzurro ciano cianotico ciano azzurro turchese che scontrava scontrava tantissimo con questa canzone quasi funky lenta con tui ramirez ma aveva già cambiato no il chitarrista perché l'anno prima c'era coso non mi ricordo il nome il secondo praticamente chitarrista di merlin manson poi l'anno dopo aveva john five johnny five che era il il professional session man no di mentre invece l'altro era uno che si era fatto da sé perché aveva avuto aveva avuto la fortuna di praticamente entrare nella band quando non era famoso e e fare il successo in quel momento lì mi spiace molto che non perché merlin manson diciamo l'ha estromesso anche per probabilmente per incapacità di suonare certe parti e questa è la verità evidentemente non è riuscito a stare al passo con la band la chitarra era la cosa più importante un po tutti hanno subito questa questa cosa qui poi va bene c'erano anche altri fattori ricordiamo comunque che il batterista è passato da merlin manson a rob zombie che apprezzo tantissimo ed è ancora con rob zombie e anche john five è con se non ricordo male il batterista con john five è ancora con rob zombie quindi è lì contro rob zombie si trova benissimo perché sono due professionisti rob zombie è una persona più tranquilla di merlin manson e poi ricordo altre altre esibizioni per esempio ricordo anche l'esibizione dei metallica nel 96 che sono usciti con questa canzone so what piuttosto di uscire con una canzone di load reload di load del loro disco che avevano in quel periodo fuori no potevano uscire con con altile slips potevano uscire con king nothing con qualsiasi singolo di quelle 14 canzoni di loro no loro sono usciti con so what e mtv oggi come allora taglia quando dicono fuck quando dicono le parolacee l'esibizione di my skin che potete trovare su youtube la è tagliata oggi come 25 anni fa tagliavano in metallica fantastica anche questa cosa rimane rimane una costante mtv che taglia le parolacee quindi sentite questo vuoto no uno si domanda ma perché cazzo sta succedendo questa cosa no è perché gli artisti hanno detto fuck in diretta mondiale e e quindi anche quella dei metallica è stata una performance divertentissima e tra l'altro no quella canzone quando l'hanno fatta io non la conoscevo perché perché praticamente la conoscevano solo chi aveva visto metallica dal vivo e chi aveva i bootleg ma io all'epoca 96 95 non avevo forse al 94 no 96 io non avevo non avevo modo di perire queste registrazioni all'epoca insomma per cui per me quella canzone era anche nuova quindi per un po di tempo l'ascoltavo proprio perché per me era nuova non non era una loro canzone sapevo benissimo che non era una loro canzone però non sapevo di chi era non sapevo perché la facevano poi dopo ho visto che venivano fuori con la compilation garage inc allora poi dopo appunto anche parlando con gli amici si capiva che quella canzone la facevano bla 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 poi hanno fatto anche il dvd la videocassetta no dei stunning counts e quelle robe lì ma poi tante altre tante altre esibizioni di questi mtv music awards che io mi ricordo attendevo come più di più di qualsiasi altra trasmissione televisiva all'epoca e ne parlavo anche con i miei amici aspettavamo questa serata incredibile ricordo anche nel 99 i rammstein che che gli vidi per la prima volta hanno chiusero lo spettacolo con con questo show pazzesco chiusero con questi fuochi d'artificio questa 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 performance con con i loro costumi bellissimi da lì rammstein poi non li non li persi più di vista furono furono una figata anche loro un gruppo tedesco che canta in tedesco no essere apprezzato così dappertutto eh è è è valevole come come i influencing canon in italiano all'apertura dei dei rolling stone c'è i tedeschi ragazzi ma chi è che 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 si che si digerisce la 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 pronuncia tedesca nella musica ragazzi è difficilissimo mentre invece questi cazzo ci sono riusciti e quindi gli amici di music awards hanno sempre portato hanno sempre portato delle cose veramente valevoli poi hanno cominciato ad essere comunque un po' infettati dall'R&B e comunque ricordo anche questi Rammstein e tra l'altro quella stessa serata in cui Rammstein chiusero, che la trasmisero in tv subito dopo Rete 4 trasmise per la prima volta dopo tantissimi anni, forse per la prima volta trasmise Rete 4, ripeto Zombie, Down of the Dead di Giorgio Romero e io quella serata lì fu una serata proprio gloriosissima perché vidi quel film lì per la prima volta perché da piccolo avevo paura e quindi questi ricordi qui quando sento parlare del Music Awards mi stanno... e non avrei mai pensato appunto di parlarne ancora a proposito della vittoria dei Monski allora come si dice nella coda sta il veleno tanto per dire a quello che ha detto che siamo giovani tutti rimbecilliti come se fossimo sotto una specie di covid mentale ma di cosa ti lamenti a fare tu che hai detto che siamo sotto covid mentale di cosa ti lamenti a fare dall'alto della tua carriera e della tua età ma cosa vi lamentate a fare voi intellettuali di quella carattura lì ok con questo vi saluto cari amici e vi lascio ai maneschi saluto